Dagli studi di Radiomatter trasmettiamo Testimoni del Cielo, rubrica sul disagio, in diretta dal Cufrad di Somma Riva del Bosco, in provincia di Cuneo. Auguriamo tutti buon ascolto e diamo subito la linea a Fabrizio Gagnor. E dal Cufrad prendiamo la linea, grazie Alessandro, un caro saluto da Fabrizio Gagnor che vi parla del Cufrad insieme con coloro che sono presenti con me questa sera. Vi presento i nostri ospiti, abbiamo con noi una psicologa e una sociologa, la psicologa dottoressa Marta Giaretti, la sociologa dottoressa Elena Bono. Il tema di cui ci occupiamo questa sera è il seguente, ci piace ritornare sul tema della solitudine, perché è sempre intrecciato con i problemi del disagio. Ma vorrei partire con voi dalla domanda che è bene farci, secondo voi la solitudine è un bene o un male? E uno dice subito, beh dipende, è vero, è proprio così. Perché vedete cari ascoltatori, questa sera proviamo a dire qualcosa sul tema della solitudine laddove è correlata con la paura e la depressione. Quindi parliamo della connotazione più negativa della solitudine, perché in fondo tutti siamo nati soli, vero? Tutti. C'è qualcuno che era già esperto? Niente. Pensate, quando si nasce, sì d'accordo c'è la familiarità con la mamma nei mesi nei quali il bambino è nel grembo della mamma, ma il mondo è nuovo. Cosa avremmo provato in quel momento? Cosa avremmo provato in quel momento? In questo mondo, anime, anime in cammino verso il cielo e ci è dato un corpo da amministrare in questo tragitto che ha un inizio e una fine. E se tiriamo il naso su per aria vediamo che siamo circondati da miliardi di stelle ed è un mistero immenso. Perché ci sono, ci sono veramente, non è che non ci sono, ci sono. Perché? Chi sono io? Da dove vengo? C'è un motivo al nostro nascere, vivere e morire. Noi che pensiamo di avere i piedi per terra e che ci facciamo così tanti problemi nel cammino della nostra vita, eppure siamo di passaggio immersi in una solitudine iniziale e una solitudine che verrà su un piccolo pianeta sospeso nel vuoto, vero? Che gira intorno al sole e che con il sistema solare va in giro facendo la sua orbita nella galassia. Ma dai, di fronte a tutto questo, che succede? Che una delle reazioni che si hanno e che sovente non si ammettono è la paura. E allora si fa finta di non pensare, o se non si vuole proprio pensare, e così si fa rumore. E sapete che ci sono tante persone che non riescono a sopportare il silenzio. Vero, vero. Ci sono situazioni in cui le persone, gli viene quasi l'angoscia se c'è silenzio. Esistono solo tanto in quanto devono sentire presenze intorno e presenze tendenzialmente rumorose. Allora proviamo a dire qualcosa. Intanto vi ricordo, per chi non è abituato ad ascoltare questa trasmissione e le trasmissioni di Radio Mater, che è bene che voi vi prepariate fin d'ora i vostri interventi, le vostre eventuali domande, le vostre integrazioni su questo tema. Ed è molto comodo e utile farlo usando i messaggi. I messaggi si inviano al numero di Radio Mater, che vi indico, 331-791-4523. Per le vostre email scrivete a diretta, chiocciola, radiomatertuttoattaccato.org. E poi anche le telefonate, ma il numero ve lo dirò quando cominciamo ad aprire le telefonate. Vi ricordo anche che voi potete riascoltare la presente trasmissione, anche le precedenti, andando nei prossimi giorni direttamente sul canale YouTube del Kufrad. Basta che cercate Kufrad Centro di Cura. E lì trovate non solo la trasmissione presente e le precedenti, ma anche tante videotestimonianze delle persone che, essendo venute qui per curarsi, vogliono collaborare per la prevenzione e per aiutare le persone che hanno buona volontà per aiutare gli altri. Potete anche ascoltare e rileggere ciò che io vi sto raccontando utilizzando la pagina Facebook del Kufrad, Kufrad News su alcol e droghe, oppure potete accedere ai contenuti direttamente dal sito alcolkufrad.it. È più semplice ancora, alkufrad.it è il nostro sito. Allora iniziamo parlando un po' della solitudine, per fare un po' di chiarezza. Un primo aspetto. Al giorno d'oggi sembra quasi che sia una malattia la solitudine, che tutti debbano fuggirla. Ecco, da un lato la si vive un po' come una condanna se uno si sente solo, e dall'altro lato però quante volte sentiamo le persone che dicono ho bisogno di staccare la spina, no? Si sente dire questo, ho bisogno di staccare di solitudine. Ma allora che cosa vuol dire? Di cosa stiamo parlando? Allora vorrei dirvi per prima cosa che ci sono almeno tre modi di guardare la solitudine. Allora, un primo modo di guardarla è la solitudine che definiscono oggettiva. Che cosa vuol dire la solitudine nella sua dimensione oggettiva? E quando si dice che è solo chi non ha persone di riferimento, chi non ha amici, chi non sa su chi contare nel momento del bisogno, chi non ha un partner e vive solo. Ma il re invece non è che vive solo, vive soltanto senza avere una relazione. Il problema sta nel fatto che in questo tipo di accezione vedete che la solitudine viene associata alla tristezza. Oh poverino! È solo. È percepita come indesiderabile. È quindi un fantasma da fuggire. Così ci si ripara in relazioni sociali, talvolta senza riflettere sulla qualità dei nostri rapporti. Vedete che stasera abbiamo la sociologa e la psicologa e i due elementi si intrecciano bene. Allora, che succede? Che una persona pur di non sentirsi solo, oppure che gli altri dicano che è solo, perché questo è un problema, ci si vergogna quasi, allora molti si sentono indotti a fare delle scelte un po' casuali, sia di amici, sia di sentimenti, pur di assicurarsi un posto nella schiera di quelli che invece, no, non soffrono di solitudine, ma magari di solitudine non si soffre proprio. Il problema è che il timore di rimanere isolati può precipitare l'esistenza intera di una persona in una condizione affollatissima di succedanei interpersonali, cioè, no, contatti di tutti i tipi, pseudo amici, pseudo amori. Per risolvere il problema della solitudine oggettiva, così si crea e si alimenta un altro problema, la solitudine soggettiva. Quando è che si è soggettivamente soli? Quando, pur stando in mezzo a tutta la gente, ci si sente insoddisfatti, si vive una strana inquietudine che ti viene quasi da piangere, quando il mondo sociale sembra in realtà come un collage di cose che non stanno bene vicine, piene di insofferenza, noie, finzioni sociali nelle relazioni, quante relazioni finte, ci pensate? Oppure la routine e la quotidianità si susseguono senza alcuna gioia. Perciò la solitudine soggettiva, che può essere causata da questa malinterpretata solitudine oggettiva, è ben più cupa ed esolata dell'isolamento che vive chi ha perso gli affetti della vita per dei lutti, oppure perché ha lasciato il proprio paese, no? Pensate anche gli immigrati. E questi subiscono una circostanza, ma possono adattarsi e poi cercare di modificare le proprie condizioni in base alle proprie aspettative. Invece, chi è soggettivamente solo va a costruirsi una rete intricata di cose non dette, rapporti di facciata, sentimenti camuffati e camuffamenti sentimentali. Che succede? Pensate al mondo dell'internet, l'abuso dei social network, alle chat, un riflesso abbagliante della solitudine soggettiva. Si instaurano come fossero dei, è forte questa espressione che vi propongo, dei cimiteri relazionali dove ognuno ci mette la sua fotina, la sua immagine, ma dove l'utilizzo di questi strumenti può essere inversamente proporzionale all'autenticità. Come c'era una volta la Second Life, adesso che c'è l'immagine finta che uno vuole dare di sé, non una seconda vita, ma un'immagine distorta, far vedere di essere ciò che non sei. Protrae la finzione e cerca di dare un'immagine di sé conforme a quello che pensa che gli altri desiderino che egli sia, ma non ciò che egli è. Vi immaginate che cosa succede dentro alla testa, alla mente, alla psiche di chi vive questa situazione di finzione, pur di sentirsi accettato negli stereotipi, nei condizionamenti. C'è poi una terza forma di solitudine, chi va un pezzo avanti e cerca di analizzare, guardate che non è molto frequente, è questo. Chi non respinge, non camuffa la propria identità e integrità, e vive nella propria vita per un determinato tempo, serenamente, si intrattiene col percorso di poter approfondire la propria vita e guardarsi dentro. Questa terza solitudine, rispetto alla solitudine oggettiva e a quella soggettiva, può diventare un momento liberatorio, un momento catartico, che conduce all'autoconsapevolezza. Ecco, consente per chi usa bene questa strada di fare ordine, fare pulizia nella propria vita e sapersi liberare dai condizionamenti e dai vincoli che ci opprimono e ci deprimono. Perché ci deprimono? Perché uno problema correlato alla solitudine è proprio la paura. Ecco, perché quando una persona non riesce a gestire la propria individualità, ed è lì che cominciamo, vedete, a toccare i problemi del disagio, lo stare con se stessi fa paura. E si ha paura della propria solitudine. Si sta quasi in apnea per l'ansia di incontrarla dietro l'angolo. E allora ci si butta nel rumore, negli incontri casuali, perché non si sa mai, potrei sentirmi sola, solo. E' quasi sempre sottovalutata l'importanza che ha per ognuno di noi diventare consapevoli di noi stessi e conoscere la nostra vera verità della solitudine, così ho cominciato oggi, e familiarizzare. Invece, fuggire continuamente dalla solitudine, che è una nostra realtà, da cui siamo venuti e verso cui andiamo, se non nella dimensione ultraterrena, ma in una visione intramondana e terribile, e il rischio di condurre a una profonda alienazione. Al punto tale che l'ansia per la propria solitudine, però, può portare a uno stato mentale veramente distorto. La paura di essere dipendente dagli altri, pensate, quando uno ha paura di riconoscere la propria solitudine, che ho fatto qualche volta, ha degli atteggiamenti strani. La paura porta a barricarsi in casa, magari attaccati ai social network, ma non incontri le persone. La paura di rimanere soli produce una solitudine ancora maggiore. La paura di andare a cercare altri per compensare la propria solitudine, vedete che va a creare una forma di dipendenza. Allora uno ha paura di diventarne dipendenti e fugge. Come? Dipendenza da oggetti, da sostanze, eccolo lì, farmaci. Molti preferiscono essere dipendenti o intossicati con sostanze, farmaci o comportamenti di dipendenza, piuttosto che cercare di vedere la propria solitudine, affrontarla, e quando uno la conosce non ha più paura, quando uno non ha più paura perché la conosce comincia a guarire, e riesce a presentarsi agli altri così com'è. Oh, quante paure, le paure di perdere che attanagliano la nostra vita. Ma io ho cinque minuti e in questi cinque minuti vorrei terminare, prima di dare la parola ai nostri ospiti, dicendo qualcosa su come si può guarire da questa solitudine e della depressione che è ad essa correlata. Voi abbiamo parlato della solitudine, della paura, della depressione, ne ho parlato in modo implicito, no? Non ancora in modo esplicito. Mi piace citare qualche contenuto, qualche parola di una psicoterapeuta, Alessandra Lancellotti, che fa questa osservazione relativamente al stato depressivo molto diffuso nella nostra società che è correlato allo stato di solitudine, dove dice che dobbiamo cercare il nesso con l'origine, il nostro cuore è, state attenti, questo è proprio, ma bello, è bello, il nostro cuore è inquieto, ma non è disperato. Adesso vedremo la differenza. È inquieto, ma non disperato, finché non trova riposo in Dio. È una psicoterapeuta che lo dice. E cita Sant'Agostino, lo sapete tutti, c'hai fatti per te, Signore, il nostro cuore è inquieto, non disperato, è inquieto, finché non riposa in te. Che cosa vuol dire allora inquieto? Dunque, l'inquietudine è una caratteristica della nostra vita, perché noi non siamo fermi, è vero, è vero, stiamo cercando, noi non siamo tranquilli, cerchiamo, desideriamo altro, trovi forse qualcuno che, no? Non è una follia, perché ciò che noi stiamo cercando esiste. L'inquietudine non è una parola brutta, è la fotografia, sentite che bello, eh? L'inquietudine è la fotografia di uno scalatore che va verso la vetta. C'è la fatica del percorso, ma non c'è la disperazione, perché la vetta del monte c'è, è concreta, è visibile. Però l'inquietudine è diventata anche una parola chiave della modernità in senso negativo da quando la vetta del monte è scomparsa. Bella è questa metafora. Siamo inquieti, perché stiamo camminando in salita, vero? È vero, verso la vetta. Ma se tu vedi la vetta, hai la serenità, fai fatica, ma stai andando verso una direzione. Se invece non vedi più la vetta, rischi di essere un disperato. come se lo scalatore sale, sale, eppure vede la sommità della montagna perennemente avvolta dalla nebbia, al punto che dubita che ci sia. Dove sto andando? Allora, la fatica, guardate se non è una bella immagine del giorno d'oggi, la fatica si trasforma in rabbia, poi diventa insensatezza e poi una specie di follia del vivere. Lo chiamano il tritatutto, no? Il quotidiano. Dove tutti corrono, 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 ma si chiede a una persona dove vai? Alla fine dici oh oh, non lo so dove vado. È vero? Non vedo più la vetta. Corro perché invece che noi vivere siamo vissuti dagli eventi della vita che ci accadono. La vita è quella cosa che ci accade mentre siamo impegnati a fare tutt'altro. Che tragedia. Diceva Chesterton togli il soprannaturale e tutto diventerà innaturale, non più naturale. guardate che è vero, eh? Togli il soprannaturale e tutto diventerà artificiale, costruito, macchinoso. Non sei più tu. Giochi un ruolo, giochi una parte. Ci parleranno la psicologa e la sociologa di cosa vuol dire per chi avendo perso la visione della vetta ha cercato di giocarsi un ruolo più alto, diverso da quello che aveva dove tutto poi dopo è esploso. ma guardate che questo è vicino non solo a chi ha avuto problemi di dipendenza dai comportamenti e dalle sostanze ma solente basta guardarsi allo specchio. Il togli il soprannaturale e tutto diventerà innaturale, non più naturale, tutto artificiale, costruito, macchinoso, come un gioco di ruolo, ci spiegherà alla sociologa e questo è un tema caro alla sociologia e ai giochi di ruolo. Il nostro traguardo è essere a tu per tu dice la psicoterapeuta col volto di Dio al fine di poter vedere davvero il nostro volto, poterci specchiare. Senza il suo volto soprannaturale il nostro volto non è più naturale, è costruito perché non sappiamo dove specchiarci, allora ci specchiamo nelle immagini, vero? Finte, falsate, nei condizionamenti. Secondo la psicoterapeuta Alessandra Lancellotti questa è la lente per osservare e giudicare i dati allarmanti che riguardano l'aumento dei casi di depressione, di solitudine, di tragedia, di vita nella società in Italia e in Europa. Il punto è lo slegamento dell'uomo moderno da Dio, dall'entità superiore, un essere umano che si separa dalla sua stessa natura. La società liquida, vi ricordate, no? E quindi dove non ci sono riferimenti di valoriali definiti ma una mescolanza di idoli o in uno dei suoi perché quando si perde Dio non è che non hai più dei riferimenti, no, si creano degli idoli, un terreno fertile per il male oscuro della depressione, una malattia insita nell'uomo che non sa più dove sta andando e basta e mi fermo qui perché è il momento di dare la parola ai nostri ospiti cominciamo con la sociologa la dottoressa Elena Bona. Grazie Fabrizio e ben trovati ai nostri ascoltatori. La solitudine la solitudine come abbiamo detto è una condizione che tocca tutti gli esseri umani cambia però l'approccio la prospettiva con cui ci guardiamo a essa sicuramente nel senso comune prevale un'accezione negativa del termine pensiamo quante volte anche da piccoli quando ci è capitato siamo stati sgridati dai nostri genitori ci siamo sentiti dire smettila se no vai da solo nella tua stanza questo andare da solo nella propria stanza lascia intendere il fatto che il trovarsi da solo è una punizione una condizione negativa una condizione che naturalmente porta malessere ancora crescendo magari ci siamo sentiti dire non far così altrimenti resterai solo e nuovamente torna il termine solitudine come una condizione di dolore di sofferenza da cui fuggire una condizione da evitare sicuramente la solitudine in termine in accezione negativa riguarda sia un isolamento quindi una solitudine fisica quello che prima Fabrizio definiva una solitudine oggettiva cioè di un individuo slegato da un contesto da punti di riferimenti da un gruppo di riferimento ma anche e forse quella più dolorosa perché insita in noi più profonda una solitudine soggettiva io definirei una solitudine emotiva quel sentirsi solo anche quando sono in mezzo alla gente che forse il male più profondo perché è radicato in noi come ben diceva Fabrizio prima la solitudine vista in questa prospettiva negativa è anche una conseguenza della nostra modernità della nostra società vediamo che con lo sviluppo delle nuove tecnologie con i social network si è perso il vecchio modo di relazionarsi quel modo concreto in cui c'era uno scambio autentico uno scambio emotivo sincero oggi se i social network dovrebbero essere sicuramente degli strumenti facilitatori nel creare relazioni perché io sono perennemente connesso la possibilità di chattare di contattare una persona che si trova anche dall'altra parte del mondo e apparentemente io faccio parte della sua vita perché vedo che cosa pubblica metto i like condivido in realtà se mi fermo a riflettere su quel rapporto su quella relazione mi rendo conto che è una relazione vuota inesistente in realtà non c'è una conoscenza profonda manca un legame sincero perché proprio perché nascono dietro a un monitor dietro a un messaggio dietro a una chat e nel momento in cui non c'è una vicinanza non solo fisica ma appunto come dicevo prima emotiva ognuno può indossare una maschera può giocare il ruolo di cui si parlava prima cosa si intende per giocare un ruolo io posso identificarmi nella persona in cui non sono perché forse per come sono non mi piaccio o perché penso che all'altro non piaccio per come sono e quindi indosso delle maschere a volte tante maschere che si adeguano quindi alle diverse situazioni in cui mi trovo in famiglia mi indosso la maschera del figlio adeguato rispettoso con gli amici indosso un'altra maschera nei vari contesti io cambio e questo mio cambiare è finalizzato soprattutto il piacere all'altro gioco tanti ruoli ma nessuno è realmente mio nessuno mi appaga mi fa sentir realizzato in questa società contemporanea il modo di rapportarsi che come dicevo prima lascia infine un vuoto dentro e intorno noi è un terreno fertile ovviamente per sviluppare delle dipendenze per sentirsi ancora più soli e di fronte a questa solitudine che non si riesce a valorizzare come dicevamo prima in un momento di crescita e di speranza aumenta ovviamente il rischio di soffocarla di nasconderla come ad esempio utilizzando delle sostanze perché la sostanza mi fa apparire quello che non sono e soprattutto mi fa credere che le persone che ho accanto a me siano dei veri amici siano dei veri punti di riferimento nello stesso tempo posso sorvolare il mio malessere il mio sentirmi solo e vuoto legandomi a delle persone creando quindi un'affettività forzata sterile che quindi tende poi a svanire e svanire nel nulla lasciando poi anche delle conseguenze negative come accennava prima Fabrizio è facile quando si subisce la solitudine si patisce la solitudine legarsi e sviluppare una dipendenza affettiva perché nasce poi il pensiero che io valgo solo se ho qualcuno accanto io valgo solo in funzione di un altro e nel momento in cui quell'altro viene meno la mia esistenza viene meno il mio valore viene meno e quindi sprofondo ancora di più in un in un malessere ancora più grande la solitudine aumenta ancora di più ma come appunto si diceva fortunatamente c'è anche un'altra prospettiva una prospettiva più sicuramente positiva di considerare la solitudine che è un un'accezione un modo di pensare alla solitudine come un'occasione una possibilità per crescere per maturare per darsi una possibilità di per realizzarsi la solitudine trova origine nel nel distacco del bambino dalla dalla mamma ed è anche per questo che ovviamente la solitudine riguarda ciascuno di noi non solo perché siamo immersi in questa società che come dicevamo un famoso sociologo ha definito una società liquida liquida come qualcosa che ci sfuggi dalle mani che scappa come le relazioni odierne ma la solitudine tocca riguarda ognuno di noi proprio per il fatto che siamo nati dalla figura materna e questo distacco seppur doloroso ha portato poi il bambino ha ovviamente supportato dalla mamma a raggiungere un po' per volta la propria autonomia a realizzarsi a crescere come individuo autonomo con una propria identità ed è proprio in questa prospettiva che bisogna secondo me coglierla pensare alla solitudine come uno spazio personale intimo per conoscere se stesso per riflettere e riconciliarsi col proprio sé e questo non vuol dire che non è doloroso come il dissacco dalla mamma perché sicuramente guardarsi dentro e riconoscere delle parti di noi che magari non ci piacciono riconoscere i nostri limiti riconoscere dei propri difetti delle nostre caratteristiche non sempre positive può diventare il nostro punto di forza perché perché conoscendo noi stessi mi realizzo capisco poi allora quale ruolo voglio rivestire all'interno della società capisco chi sono e conoscendo me stesso riesco approcciarmi all'altro e relazionarmi all'altro in maniera autentica in comunità cerchiamo di dare questa occasione di vivere la solitudine come possibilità di maturità di conoscenza di sé una possibilità una speranza diciamo che in comunità non solo il vivere insieme il vivere in comunione permette di ovviamente scacciare la solitudine oggettiva fisica del trovarsi a cena da solo di andare a dormire senza dare la buona notte a nessuno l'alzarsi al mattino e non incrociare lo sguardo di nessuno perché qui la nostra vita è quella di gruppo con i pro e contro del vivere in condivisione però si dà anche la possibilità di uno spazio personale una possibilità di conoscenza introspezione non solo attraverso un supporto individuale ma anche attraverso l'incontro con l'altro in queste occasioni durante i momenti di gruppo durante le attività terapeutiche che facciamo che sia il canto che sia il teatro ognuno ha la possibilità di conoscere se stesso e quindi riuscire un po' rivivendo magari anche la propria vita passata capire o conoscere quali sono stati nuclei problematici che hanno poi condotto a sviluppare un comportamento dipendente e da lì costruire quella consapevolezza diventa la base per costruire una nuova identità in funzione di un futuro più autentico perché è basato su delle consapevolezze più radicate una conoscenza di sé e un miglioramento anche perché quando ti trovi ad avere consapevolezza di quelli che sono i tuoi limiti e i tuoi limiti e le tue difficoltà riesci anche a intervenire e quindi costruire una progettualità un futuro avendo questo bagaglio di conoscenza di sé permetterà sicuramente di limitare i rischi di ricaduta ascoltiamo la psicologa dottoressa Marta Giaredi cari amici per i vostri interventi per i vostri messaggi 331 791 45 23 ripeto per i vostri messaggi ecco vedo che stanno già arrivando 331 791 45 23 oppure scrivete a diretta chiocciolaradiomater.org per le vostre telefonate in diretta 031 64 600 prima di ascoltare la dottoressa Giaretti e leggo la prima domanda che è arrivata ho 56 anni non ho una partner mio padre è morto poco più di un anno fa sono rimasto con mia madre prego Dio che campi altri vent'anni ma un giorno se sarò ancora vivo rimarrò da solo a meno che io non mi sposi in vecchiaia dice chi ci scrive rimarrò solo non so se non pensare a quando rimarrò solo o se devo prepararmici psicologicamente certo la morte di mio padre è stata una pugnalata pesante ma se penso che dovrò perdere anche mia madre eppure devo essere forte devo essere preparato ma se ci penso cosa rispondere a chi ci scrive questo dramma del porsi di fronte alla evidenza della solitudine dottoressa fondamentale per l'argomento che stiamo trattando significa recidere un legame che spesso come nel caso di questo signore ci ha accompagnati per tutta la vita significa perdere i nostri punti di riferimento come vedremo anche tra poco con la testimonianza del nostro ospite che è uno degli ospiti della nostra struttura spesso queste esperienze creano una grande frattura nella persona soprattutto se la difficoltà di creare legami o comunque di gestire contenere le proprie emozioni in mancanza di un riferimento esterno quindi di gestirle in autonomia e di riuscire in questo modo a superarle è già difficoltosa da dove nasce questa difficoltà come già prima la mia collega accennava e come più volte abbiamo abbiamo sottolineato durante queste trasmissioni la nostra capacità di regolare le emozioni cresce con noi e quindi si sviluppa a partire dal rapporto che noi abbiamo con i nostri genitori da quel rapporto di accoglienza di condivisione da quel rapporto di accudimento che ci permette di esprimere le emozioni e di regolarle anche attraverso le risposte che i nostri genitori fin da piccolissimi fin da neonati danno in risposta alle nostre manifestazioni emotive questo processo naturale e che riguarda tutti può in alcuni casi essere non non svolto al meglio diciamo per comunque situazioni magari di difficoltà già delle stesse figure genitoriali che sicuramente ognuno di loro proverà a fare il meglio che gli è possibile ma ovviamente ognuno con i suoi limiti e con le sue difficoltà immaginatevi quindi la situazione di un bambino che esprime emozioni negative come ad esempio la rabbia o la tristezza attraverso il pianto e queste emozioni suscitano nei genitori una reazione di allontanamento di distanza di rifiuto del bambino il bambino quando è piccolo ovviamente ha bisogno ha un bisogno proprio fisico non può bastare a se stesso quindi ha un bisogno dei suoi genitori che cosa che cosa accade accade che il bambino imparerà si adatterà e imparerà a reprimere queste emozioni negative emozioni negative che crescendo non avendo imparato a gestirle attraverso queste relazioni fondamentali farà fatica a gestire in autonomia un'altra ascoltatrice ci pone un'altra domanda molto importante Sofia ci chiede se c'è differenza tra la solitudine e l'isolamento lei si dice più isolata che sola sicuramente sono due aspetti importanti e due aspetti che si intrecciano la solitudine e la chiusura relazionale verso le altre persone possono portare anche gli altri a isolarci a tenerci lontani questo lo vediamo accadere spesso e lo sentiamo raccontare anche dalle storie dei nostri ospiti per i quali a volte una vita ai margini della società diventa anche fonte di pregiudizio fonte di emarginazione sociale da parte diciamo del resto della società da cui vengono esclusi e quindi solitudine è anche non essere capiti non essere compresi non essere visti in quello che è il il proprio problema non non riconoscere questo come come un problema che che può essere affrontato e e a cui anche le le altre persone e il resto della società può in realtà contribuire ad affrontare e a risolvere quindi sicuramente isolamento può diciamo essere a volte anche subito dalla persona che magari ha già a livello individuale delle difficoltà a relazionarsi con gli altri in comunità quello che appunto che si cerca di fare come già veniva descritto prima dalla dalla dottoressa Bono è proprio anche quello di una condivisione di questi vissuti sentirsi soli nella propria problematica di dipendenza significa sperimentare anche sentimenti di vergogna di incomprensione il non sentirsi capiti e il non sentirsi accettati dagli altri anzi sentirsi magari esclusi e messi al di fuori dalla rete relazionale a cui precedentemente si apparteneva si cerca in comunità di favorire questa condivisione empatica di vissuti e di superare la vergogna di esprimere anche le proprie difficoltà le proprie emozioni negative le proprie insofferenze come si diceva prima di entrare maggiormente in contatto con le proprie emozioni anche grazie all'aiuto dell'altro che ci sta di fronte e che ci ascolta che ci può capire che ha vissuto situazioni simili riuscire ad accettarci maggiormente possiamo adesso passare la parola sì nel dare la parola al signore Enrico vi ricordo per i vostri messaggi 331 791 4523 oppure via email a diretta chiocciolaradiomater.org per le vostre telefonate in diretta 031 64 600 ascolchiamo buonasera mi chiamo Enrico beh dopo questo grande discorso delle dottoresse mi sento un po' a disagio beh comunque io vorrei parlare nella mia prima solitudine la mia prima solitudine avvenne prima che avevo 5-6 anni tutto accade nel momento in cui mia madre aveva un infarto io essendo solo vivendo con mia madre sola venne messo in un collegio e lì entro la difficoltà essendo più piccolo del collegio a relazionarmi con le altre persone quindi non relazionandomi con gli altri che erano più grandi avevano 11-12 anni e mi sono escluso mi sono eliminato dal gruppo quindi io stavo lontano osservavo il gruppo ma non mi avvicinavo quindi lì è stata la prima volta la solitudine da bambino questa cosa è data via perché al momento ho venuto a mia madre mi ha ripreso e guarita e sono tornata a casa qui nei 25 anni quando dopo di che mia madre morì veniremo lì e morì in una notte e beh io ho subito veramente un grosso un grosso trauma non so come dire esattamente il la morte adesso è molto pesante dire questo perché comunque è una cosa che riprovo di nuovo e mi emoziona niente in quel momento che è mancata mia madre sono ritornato di nuovo in questa grossa solitudine probabilmente già quando ero bambino la mancanza di mia madre ha fatto il modo che io mi stesse già solo mi stanno anche insieme altri bambini insomma più grandi di me comunque questa cosa qui mi ha portato a una grandissima desolazione tutti i miei amici che avevo prima avevano proprio distaccati e famiglie che conoscevano non uscivo più con nessuno non vedevo più nessuno questo ha fatto in modo che io comunque cominciassi a avere un rapporto con altre persone dei rapporti diciamo così non chiari perché neanche poi li conoscevo tanto bene solo che entrò in gioco l'eroina entrò in gioco l'eroina quindi conoscendo queste persone cominciare a fare l'uso di eroina questa cosa naturalmente all'inizio è una cosa bellissima nel senso che mi hai anche aiutato ma in quel momento a superare la morte di mia madre però con il tempo anche questa cosa qui anzi mi ha portato ancora più più problemi nel senso che notavo che tutte le persone che erano intorno a me in realtà non erano non erano niente non erano nessuno erano un po' come delle bolle viaggianti ogni tanto ci incontrovavamo poi ci balsavamo una parte dall'altra ognuno faceva un po' la sua vita ma non si parla neanche che vita era una vita confusa ritornavo a essere solo in maniera proprio depressa alla notte mi mettevo a piangere non riuscivo a trovare quello che mi dasse soddisfazione ho vita nel senso non mi sentivo più la vita non era più dentro di me anche se ho tante persone intorno mi sentivo solo proprio abbandonato è successo che nell'età io ho tipo 30 anni 28-29 anni quindi hanno passato 4-5 anni la morte di mia madre e tentare il suicidio ero talmente depresso che niente ho tentato il suicidio poi meno male sono stato salvato dopo 3 giorni ho trovato la mia ex ragazza vedi si è chiuda questa circostanza succede che poi continuando a fare la mia abitato psicobendente perché non l'ho smesso vengo arrestato e ho fatto la mia anche lì in galera comunque non ero non ero molto vicino alle persone ho fatto solo 6 mesi ma ero quasi sempre chiuso in cella misuravo questo problema mi ha portato a un certo punto a un ragionamento e quindi mi sono accorto che comunque c'era qualcosa che non funzionava stavo troppo male poi niente camminando ho conosciuto delle persone che andavano un CERT un servizio toscodipendente di Torino ho provato ad andarci a fare due o tre chiacchiere e niente a quel momento lì loro piano piano hanno realizzato una comunità hanno cominciato ad andare ad una comunità e insomma hanno cominciato a fare un percorso è andato tutto bene insomma io per nove anni fino ai miei 38 anni il 39 è andato tutto bene stavo bene avevo ricreato dei contatti con la vecchia famiglia vecchi amici che avevo lasciato quando avevo 25 anni mi sentivo abbastanza realizzato non mi sentivo più solo insomma era una cosa bellissima per me il fatto che poi incontrare una ragazza purtroppo nella vita si fanno rimuovere gli errori ho portato questa ragazza che lei non ce l'ha avuto di sostanze e niente mi sono innamorato e appunto lo sorrimo ho ricaduto non ho usato più l'eroina la cocaina comunque come prima però sono ricaduto nell'alco che forse è ancora peggio perché è più facile da trovare quindi è portato in mano e questo qui è stato veramente dura credo che le sostanze cui fatichi a trovarle bene o male ti riesci proprio a staccarti ma quella che c'è troppo facilmente è un bel casino e anche lì è successo che trovandolo conoscendo mia moglie che era una borderline dove abitava lei sono abitato insieme a lei tutti tutte le persone che conoscevano lei comunque ci immarginavo lei è andata prima in carcere io sono stato immarginato di una roulotte comunque perché la gente non mi affittava neanche una casa e lì è tornata di nuovo la solitudine immensa e poi ritornano sempre i stessi pensieri ritornano le stesse cose la voglia comunque del suicidio non ti trovi più bene in questo mondo comincio a dare anche delle colpe a te insomma ritorni in quella grande confusione e di nuovo l'altra cosa le faccio ritorno le muovo a set le parlo le spiego di nuovo le cose e ho avuto di nuovo la fortuna comunque anche se ho una età abbastanza avanzata di tornare in comunità e su questo momento sono qui al Cufrad e sto cercando di andare avanti e analizzare un po' la mia vita e speriamo che questa volta riesco a andare un po' meglio mi saluto tutti quanti buonasera grazie allora ci sono ancora due messaggi il primo ci scrive così oggi è dall'età di 30 anni che ho la paura di morire oggi ne ho 63 anni e la situazione è peggiorata nel tempo sono una buona credente ma mi rendo conto che ho impegnato gran parte del mio tempo a allontanare questo pensiero aiutatemi e sentiamo anche l'altro messaggio se riusciamo a leggerlo sul monitor così rispondiamo a tutte e due perché siamo in chiusura ecco un M si firma così io non è che ho perso Dio è Dio che ha perso me che non mi fa mai vedere la vetta e riprendendo quella metafora si è dimenticato di me sì lo pensano tutti l'unica persona che mi capiva è mancata è morta e io sto aspettando di raggiungerlo ascoltiamo la nostra sì intanto grazie nuovamente agli ascoltatori che condividono anche queste esperienze così negative con con noi e con chi ci ascolta una cosa che impariamo qui in comunità e che emerge anche dalle parole di Enrico che ci ha raccontato adesso la sua vita è quella di non perdere la speranza lui stesso ad esempio ci ha detto di essere già adulto di essere già a un certo in una certa fase della sua vita ma comunque pur avendo toccato il fondo è riuscito a volersi dare un'altra possibilità ed è quello che vi invitiamo a non a non abbandonare mai riconoscendo sicuramente la presenza di problemi e quando necessario chiedendo anche l'aiuto necessario per farvi aiutare ma io riprendendo le parole di Fabrizio prima quando ha detto che siamo tutti di passaggio su questa terra inviterei come ha detto la mia collega a non perdere la speranza e vivere fino in fondo la vita oggi sapendo che a tutti toccherà poi passare a miglior vita però non bisogna non bisogna demordere e bisogna guardare il qui ed ora e circondarsi di persone che ci possono essere di aiuto per questo chi è in comunione col soprannaturale non è mai solo ricordiamocelo chi invece che fare di testa propria si affida totalmente nelle mani del cielo e sente la presenza del soprannaturale non è solo ci fermiamo qui cari amici il prossimo incontro col Kufrad è previsto per giovedì 31 maggio alle 17.30 grazie per essere stati con noi vi invito a rimanere all'ascolto delle trasmissioni di Radiomater e col canto finale restituiamo la linea alla regia centrale io sogno che l'amore del Signore venga liberato a tutti gli uomini io sogno che l'amore del Signore venga rivelato a tutti gli uomini amare 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 i righi che spesso sono i più poveri Dagli studi di Radiomater abbiamo trasmesso Testimoni del Cielo, rubrica sul disagio in diretta dal Cufrad di Somma Riva del Bosco in provincia di Cuneo. Ricordiamo il prossimo appuntamento che sarà giovedì 31 maggio sempre alle ore 17.30.